Massiccia partecipazione ieri a San Pio X all'esibizione del trio Bellini, Giulio Fragapane Basso, Felice Internullo, Tenore, Francesco Falci, Pianoforte, nell'ambito di Natale, musiche e canti tradizionali. A cura dell'Associazione Amici della Musica, nel ricordo del maestro Giuseppe Pastorello, presidente onorario della stessa associazione, oggi diretta dal figlio Massimo. Stasera alle 19, nuovamente, nelle chiese di San Pio X, sarà la volta del trio Tosti, Piero Agrifasi, soprano, Piero Pupino, Tenore, Diego Cristofo, di Pianoforte. Stasera alle 19, nuovamente, nelle chiese di San Pio X, sarà la volta del trio Tosti, Pio X, sarà la volta del trio Tosti, Pio X, sarà la volta del trio Tosti, Pio X. Stasera alle 19, nuovamente, nelle chiese di San Pio X, sarà la volta del trio Tosti, 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 Pio X, sarà la volta del trio Tost